Buonasera, vediamo come si possa applicare il ciclo di Kolb ai compiti di realtà. Il ciclo di Kolb è costituito da quattro momenti. L'esperienza concreta è C, l'osservazione riflessiva OR, la sperimentazione attiva SA, la concettualizzazione astratta CA. L'esperienza concreta vuol dire fare esperienza. L'osservazione riflessiva OR significa riflettere sull'esperienza. La sperimentazione attiva SA vuol dire che i risultati dell'azione vengono utilizzati per nuovi problemi. Nella concettualizzazione astratta CA si trattano di conclusioni generali. Nel ciclo di Kolb si va dall'esperienza all'esperienza attraverso la riflessione. Questo è molto utile nei compiti autentici di realtà. Tra l'altro, Kolb elabora il ciclo e individua degli stili di apprendimento individuali nel 1984. Questi sono in rapporto alle preferenze di partenza di ciascuno. Lo stile adattivo che è caratterizzato dall'insieme della sperimentazione concreta EC e della sperimentazione attiva significa preferenza per praticare l'esperienza diretta con capacità di accettare il rischio. Lo stile divergente che è la sperimentazione concreta più l'osservazione riflessiva in questo caso il soggetto riflettendo sull'esperienza individua soluzioni multiple e idee nuove. Lo stile convergente che è la concettualizzazione astratta più la sperimentazione attiva significa proporre ed esplorare una soluzione corretta in rapporto al problema posto. Lo stile assimilativo che ci ha, ossia la concettualizzazione astratta più l'osservazione riflessiva significa organizzare fatti ed esperienze secondo modelli teorici di riferimento. Per Colb l'apprendimento è esperienziale e si può applicare secondo il nostro punto di vista i compiti di realtà come ciclo di apprendimento che si basa sulle evidenze nelle competenze come un processo in cui la conoscenza viene creata attraverso la trasformazione dell'esperienza. L'apprendimento esperienziale di cui parla Colb è selettivo soprattutto nell'ambito formativo ed è filtrato da fattori che sono motivazioni personali, motivazioni sociali, motivazioni di contesto educativo e competenze. La didattica esperienziale si fa efficace quando si sviluppa in una progettazione flip, flip the classroom, quando il docente progetta e disegna l'esperienza reale, quando gli studenti apprendono e mettono in atto competenze in ambito di situazioni reali o simulate, esperienza concreta, quando gli studenti riflettono l'osservazione riflessiva ed interpretano le loro strategie discutendone, quando gli studenti, concettualizzazione astratta, elaborano concetti chiave e richiamano a possibili modelli di investigazione, quando gli studenti, con la sperimentazione attiva, pensano ad altre situazioni reali che permettono di applicare e verificare le competenze acquisite che sono in loro possesso. Quindi gli effetti che si possono pensare del ciclo di Colb nei compiti di realtà sono il coinvolgimento, l'esperienza condivisa, il potenziamento e il sviluppo delle competenze, l'autostima e il senso di efficacia, il problem solving e un apprendimento che sia spendibile, che sia utile. Buonasera. Buonasera.